i vaccini io l'ho già dichiarato più volte che sia di destra che sia di sinistra che sia di centro non mi interessa può essere ultra comunista e voi sapete qual è la mia posizione politica ecco se serve a salvare vite umane bene o andiamo a prenderlo all'aeroporto quello russo ecco lo sputnik se serve canteremo metteremo il disco che accompagna che accompagna che accompagna quella cultura politica por di avere la disponibilità e di potere finalmente somministrare il vaccino alla gente non ci interessa altro non ci interessa altro per quanto riguarda gli sciacalli romani beh gli sciacalli sono ovunque e io mi riferisco a rappresentanti di partiti dell'opposizione perché a roma ci sono persone per bene anche a roma dei partiti d'opposizione e c'è qualche sciacallo naturalmente sconosciuto ai più in sicilia e che pensa di poter formalizzare la richiesta di commissariamento della sanità siciliana che ha soltanto il torto e l'errore di non avere mai parlato di cerchio magico di non avere mai pensato di imbastire campagne a favore di qualche privato e che ha il torto e che ha il torto di non essersi mai occupato di particolare ovviamente si fa tuttavia alle questi altri trattamente di chirurgia plastica più quindi